5 giorni di eventi, musiche e spettacoli per festeggiare così i 40 anni del Calcite. Da mercoledì 5 a domenica 9 settembre, gli amici del Calcite di Via Fiorentina hanno organizzato all'Arezzo Fiere e congressi la rassegna Calcite Scena, il 18esimo mercatino dei ragazzi. Il ricavato dell'iniziativa, come sempre, andrà a finanziare l'attività del servizio scudo dedicato alle cure domiciliari dei malati oncologici e al supporto delle loro famiglie. Nel prossimo mese investiremo circa 500.000 euro per implementare il servizio con un mammografo nuovo dotato di tomosintesi, di stereotassi e anche di immagini con contrasto. Poi faremo un altro ecografo, un'implementazione della terapia, complessivamente 500.000 euro che metteranno la nostra senologia a livelli veramente nazionali. La diagnosi precoce ovviamente si fa con quello che la tecnologia oggi ti mette a disposizione. Scoprire un tumore agli stadi iniziali vuol dire un'altissima probabilità di guarigione. Grazie. Grazie.